Paul Gauguin. Paul Gauguin è uno degli artisti più significativi dell'Ottocento. Inizialmente considerato un impressionista, in realtà si staccò poi dalla rappresentazione oggettiva della realtà per aprire la strada ad un nuovo stile di pittura simbolica. Mentre il movimento impressionista stava raggiungendo il suo culmine verso la fine degli anni Ottanta del 1800, Gauguin sperimentò nuove teorie sul colore, approcci semidecorativi alla pittura. È noto che lavorò un'estate in uno stile intensamente coloristico accanto a Vincent Van Gogh nel sud della Francia, in Provenza. Prima di voltare poi completamente le spalle alla società occidentale e anche a Van Gogh, con il quale ebbe un diverbio. E sappiamo benissimo che tra l'altro hanno due caratteri. Gauguin era un tipo abbastanza schietto e non era molto disposto al compromesso. Sappiamo che Van Gogh si tagliò un orecchio proprio mentre c'era Gauguin insieme con lui. Ma ha volto alle spalle non solamente a Van Gogh, ma a tutta quanta la società, la cultura occidentale. Aveva già abbandonato una sua precedente vita di agente di cambio, quando iniziò a viaggiare regolarmente nel Pacifico Meridionale, all'inizio degli anni Novanta dell'Ottocento, dove sviluppò un nuovo stile che sposava l'osservazione quotidiana con il simbolismo mistico. Uno stile fortemente influenzato dall'arte tribale e dalle cosiddette arti primitive dell'Africa, dell'Asia e, in particolar modo, della Polinesia francese. Il rifiuto di Gauguin, della sua eredità europea, della società occidentale, del mondo artistico parigino, per una vita separata, nella terra dell'altro, è diventato un esempio romantico di un artista quasi mistico errante. Dopo aver introdotto brevemente la figura di Gauguin, adesso parliamo un po' della sua biografia. Paul Gauguin è nato da Clovis Gauguin, giornalista, e da Alina Maria Chazal, figlia del leader socialista, prima attivista femminista, Flora Tristan. Figlia della leader socialista e prima attivista femminista, Flora Tristan. O Tristan, probabilmente, alla francese. All'età di tre anni, Gauguin e la sua famiglia fuggirono da Parigi per Lima, in Perù, una fuga motivata dal clima politico francese che proibiva la libertà di stampa nell'immediato post-48. Durante il viaggio al di là dell'Oceano Atlantico, Clovis si ammalò e morì il padre di Paul Gauguin. Per i successivi quattro anni, Gauguin, sua sorella e sua madre, vissero con dei parenti a Lima. Nel 1855, quando la Francia entrò in un'era politicamente più stabile, ormai Napoleone III aveva preso il potere e anche, in un certo senso, favorito una sorta di pacificazione nazionale, sotto la sua autorità, però, imperiale, la famiglia sopravvissuta tornò a stabilirsi nella città francese centro-settentrionale di Orléans, la città della pulsella di Orléans, Giovanna d'Arco, dove tutta quanta la famiglia visse insieme con il nonno di Gauguin. Lì Gauguin iniziò la sua educazione formale. Alla fine, entrò nella marina mercantile, tra l'altro c'era il servizio militare obbligatorio, cominciava ad esserci. All'età di 17 anni, ci stette per tre anni, fece carriera, in un certo senso, nella marina francese, ma poi ritornò a Parigi nel 1872, iniziando a lavorare come agente di cambio. Dopo la morte di sua madre nel 1867, Gauguin andò a vivere con il suo tutore Gustave Arosa, un ricco mecenato e collezionista d'arte. Sotto le cure di Arosa, Gauguin conobbe l'opera del pittore romantico Eugène Delacroix, fatto una diretta insieme, ve la ricorderete, su Delacroix, Così come l'opera del pittore realista Gustave Courbet, anche di Courbet abbiamo fatto una diretta, Jean-Baptiste Camille Corot, di Corot non abbiamo ancora fatto una diretta, e la scuola di pittura del paesaggio francese preimpressionista di Barbizon, e questo vi ricorderete perché abbiamo fatto la diretta su Jean-François Millet. Questa formazione artistica ebbe un effetto duraturo sul lavoro successivo di Paul Gauguin. Paul Gauguin sposò Mette Sophie Gad nel 1873. Successivamente lui, Gauguin, la moglie, che era danese, e i loro cinque figli si trasferirono da Parigi a Copenaghen. Gauguin iniziò anche a collezionare opere d'arte, procurandosi una modesta serie di dipinti impressionisti di Pierre-Auguste Renoir, di Claude Monet e di Camille Pissarro. Di Monet abbiamo fatto, ricordate, una diretta. Nel 1880 Gauguin stesso dipinse, dipingeva nel tempo libero, impiegando uno stile impressionista. Quindi questa è l'epoca in cui, nel 1880, Gauguin era un agente di cambio e dipingeva per hobby. È il caso, per esempio, di questa natura morta con frutta e limoni, che fu dipinta proprio in quel 1880 circa. Gauguin frequentava spesso anche le gallerie. Alla fine affittò il suo studio di artista e quindi ebbe un suo studio personale per dipingere. Inoltre Gauguin dipinse accanto ad artisti con cui aveva stretto amicizia, Camille Pissarro, ne abbiamo citato anche prima, e Paul Cézanne. Partecipò lui stesso alle mostre impressioniste ufficiali a Parigi del 1881 e 1882. Quindi, prima fase, possiamo dire, fase impressionista di Gauguin. Gauguin poi perse il lavoro di agente di cambio a causa del crollo finanziario del 1882. Nel 1885 stava cercando un nuovo mezzo per sostentarsi, per guadagnarsi da vivere. Afflitto da attacchi di depressione, Gauguin decise infine di dedicarsi alla pittura totalmente, come professione alternativa a quella che era stata la sua, fino ad allora, di agente di cambio. Tornò a Parigi deciso di intraprendere un'attività professionale, nonostante fino a quel momento gli mancasse del tutto una formazione artistica accademica. Nel frattempo sua moglie, Mette-Sophie, e i figli si stabilirono, appunto in Danimarca, già l'abbiamo accennato prima, lei era danese, e in Danimarca rimase essenzialmente con la famiglia. Un soggiorno di diversi mesi in Bretagna, a Pont-Aven, a metà del 1886, fu una sorta di svolta decisiva per Gauguin, che sviluppò uno stile pittorico molto particolare, il cosiddetto cloisonisme, in italiano quasi intraducibile, partizionismo. Di che cosa si trattava? Di uno stile caratterizzato da colori piatti e luminescenti come quelli delle vetrate colorate, e infatti il cloisonisme è lo stile tipico delle vetrate, dove, come ben sapete, ci sono dei compartimenti di metallo che separano un colore dall'altro. Questo stile nuovo lui lo utilizzò per esprimere l'esperienza naturale, spontanea, semplice e spirituale delle popolazioni bretoni che lui stava conoscendo in quegli anni. Durante questo viaggio e un successivo soggiorno in Bretagna nel 1889, Gauguin cercò di raggiungere un nuovo tipo di sintesi, quindi di poetica, potremmo dire, espressiva. Una fusione di colore, composizione e soggetto, non solo dipingendo davanti a un modello dal vivo oppure un paesaggio, come nello stile degli impressionisti, ma riunendo insieme numerosi studi e stili, in un modo che alla fine evocava la vita interiore del soggetto, invece di suggerirne semplicemente l'aspetto esteriore, cioè cercando di andare al fondo di quello che lui stava rappresentando, non fermandosi all'aspetto ottico, visivo, come facevano gli impressionisti. Per esempio, nelle sue quattro ragazze bretoni del 1886, i toni naturalistici del paesaggio coesistevano con distese più ampie di motivi e colori, che iniziavano a suggerire l'importanza simbolica del soggetto, che andava oltre ciò che era immediatamente visibile. Due anni dopo, Gauguin salpò per Panama e successivamente per la Martinica, vivendo spesso in una capanna con l'amico e collega artista Charles Laval. Ricordate, infatti, che lui era stato un marinaio, era un tipo a cui piaceva viaggiare per nave, piaceva andare via, lontano anche, dalla Francia. Questi viaggi verso le cosiddette culture primitive, la sua osservazione dei nativi nel loro ambiente naturale, l'impiego di una tavolozza ricca e vibrante, sarebbe presto servito a Gauguin come base per uno stile artistico originale. Verso la fine degli anni Ottanta e dell'Ottocento, il lavoro di Gauguin attirò l'attenzione di Vincent van Gogh, un altro pittore giovane e dotato che, come Gauguin, soffriva spesso di attacchi di depressione. Analogamente a quelli di Gauguin, i dipinti di Van Gogh, pur essendo inizialmente impressionisti, mostravano il potenziale per poter sbocciare in qualcosa di completamente nuovo. I due artisti iniziarono una regolare corrispondenza, durante la quale si scambiarono dipinti, inclusi autoritratti, tra cui il famoso autoritratto di Gauguin, «I miserabili, le miserabili», che avevano lo stesso titolo del romanzo di Victor Hugo. Nel 1888, su invito di Van Gogh, i due vissero e lavorarono insieme per nove settimane nella casa affittata da Van Gogh ad Arles, nel sud della Francia. Il fratello e benefattore di Vincent, cioè Theo Van Gogh, che era anche un mercante d'arte di professione, divenne il principale direttore artistico anche di Gauguin. Osserviamo adesso il caffè notturno ad Arles e Madame Ginoux. Questo è appunto un dipinto che fu realizzato in quelle settimane del 1888, quando Gauguin era ad Arles. Durante queste nove settimane, entrambi gli artisti realizzarono un numero notevole di tele, tra cui appunto questo dipinto. E non solo. Dipinse in quelle settimane Gauguin anche il famoso quadro «Visione dopo la predica» o ovvero «Giacobbe che lotta con l'angelo». Nessuno dei due quadri però ebbe, diciamo, successo. In generale, Gauguin e Van Gogh all'epoca erano considerati pittori stravaganti, sperimentali, alla ricerca di un nuovo stile che potesse discostarsi dall'impressionismo maturo di Monet, Renoir e Pizarro, ma generalmente non molto apprezzati dalla critica Gauguin e Van Gogh all'epoca. L'intensità dello scambio artistico giunse però a una conclusione drammatica, poiché, verso la fine di quelle nove settimane, gli episodi emotivi depressivi e occasionalmente violenti di Van Gogh quel tagliarsi l'orecchio, no? di cui vi parlavo prima, portarono allo scioglimento della loro collaborazione artistica, anche se i due continuarono ad ammirare l'uno il lavoro dell'altro. Gauguin tornò a Parigi, ma solo per un breve periodo. Ormai completamente disinteressato all'impressionismo e a quello che a quel tempo veniva chiamato post-impressionismo, anche se poi verrà definito un maestro del post-impressionismo, Gauguin si concentrò sullo sviluppo ulteriore della sua tecnica pittorica, la pittura piatta, la tavolozza audace, la pittura senza sfumature o sovrapposizione di colori, quindi il famoso croisonism di cui abbiamo parlato prima. Un esempio tipico di quest'epoca è il Cristo giallo del 1889, un'opera largamente influenzata dalle stampe giapponesi, dall'arte popolare africana e dalle immagini popolari impresse nella memoria di Gauguin nei suoi viaggi in Sud America e nelle Indie orientali francesi, i cosiddetti Caraibi, oggi li chiamiamo così, gli ultimi anni della vita di Gauguin. Dopo avrà trascorso anni lontano dalla moglie e dai figli, nel 1891 Gauguin abbandonò definitivamente la sua famiglia, trasferendosi da solo come un perpetuo vagabondo solitario nella Polinesia francese, dove sarebbe rimasto per il resto dei suoi giorni. Questa mossa fu il culmine del crescente desiderio suo di sfuggire a quella che considerava una cultura europea artificiosa, scegliendo una vita e una condizione più naturale che possiamo vedere sintetizzata in quadri come Ya, Orana, Maria, questo quadro che rappresenta una Maria, quindi una Vergine Maria, una Madonna, ma rappresentata attraverso la sensibilità di quelle popolazioni tribali che lui stava andando, che stava conoscendo a quell'epoca e fece tanti quadri insomma di questo tipo. Nel suo ultimo decennio di vita Gauguin visse a Tahiti e successivamente a Puna Aouya per poi raggiungere le isole marchesi. Durante questo periodo dipinse ritratti più tradizionali come Donne Tahitiane sulla spiaggia, La luna e la terra e Due donne Tahitiane. Ma qui vediamo tra l'altro uno dei suoi capolavori che dipinse più o meno in quegli anni, il famoso quadro Manau Tupapau, Lo spirito dei morti veglia del 1892 e poi il suo capolavoro assoluto Da dove veniamo, cosa siamo e dove stiamo andando del 1897. Queste opere furono dipinte in un periodo in cui Gauguin sostanzialmente diceva addio alla carriera, come fosse un atleta per così dire al massimo delle sue capacità ma desideroso di aspirare ad una condizione più spirituale, alla ricerca di un senso ultraterreno di riposo e di distacco. Si dice che fosse ossessionato dalla morte, guardò indietro la sua vita e prese perfino in prestito figure dai suoi dipinti precedenti, forse per conferire loro simbolicamente una durata prolungata. In particolare nel 1899 Gauguin si riferì a se stesso ironicamente, scrivendo un collega parigino che dipingeva solo la domenica e nei giorni festivi, ironicamente come il dilettante che una volta incarnava prima di dedicarsi seriamente all'arte, come se fosse ritornato a dipingere per hobby. Non molto tempo dopo quella battuta autoironica tentò addirittura senza successo però il suicidio autoavvelenandosi. All'inizio del maggio del 1903 psicologicamente instabile e indebolito dalla tossicondipendenza e da regolari attacchi di malattia, Gauguin cedette agli effetti degenerativi della sifilide e morì all'età di soli 54 anni nelle isole marchesi dove fu successivamente sepolto. L'eredità di Paul Gauguin le forme naturalistiche e i soggetti primitivi di Gauguin avrebbero incoraggiato un'intera generazione più giovane di pittori ad allontanarsi decisamente dal tardo impressionismo e a perseguire soggetti più astratti e poetici. Alcuni ispirati alla poesia simbolista francese, altri però derivati dal mito, dalla storia antica e dalle tradizioni culturali non occidentali come appunto nell'arte di Gauguin soggetti che paiono riferirsi agli aspetti più spirituali e soprannaturali dell'esperienza umana. Alla fine Gauguin si dimostrò estremamente influente sull'arte moderna del XX secolo in particolar modo sull'arte di Pablo Picasso e di Georges Brac e sullo sviluppo del cubismo dal 1911 al 15 circa. Allo stesso modo la scelta di Gauguin di tavolozza di colori audaci avrebbe avuto un effetto diretto sui fovisti sui fauve vi ricordate la nostra diretta sui fauve e matisse in particolare André Derain e Henri Matisse entrambi i quali utilizzavano spesso colori intensamente risonanti emotivamente espressivi e non realistici. Infine Gauguin come uomo divenne una leggenda quasi indipendentemente dalla sua arte arrivò a ispirare una serie di opere letterarie basate sulla sua storia di vita un po' esotica un esempio di questo è il libro The Moon and Sixpence del 1919 di William Somerset Morgan Adesso facciamo una specie di gioco cioè riprendiamo a rivedere i quadri che abbiamo usato per parlare della biografia di Paul Gauguin per parlare invece delle sue opere partiamo appunto dalla natura morta con frutti e limoni del 1880 è la dimostrazione che Gauguin ha iniziato proprio padroneggiando i metodi impressionisti per rappresentare l'esperienza ottica della natura poi però come abbiamo visto Gauguin studiò ben altro come per esempio le comunità religiose nelle zone rurali della Bretagna e qui le quattro ragazze bretoni e i vari paesaggi nei Caraibi con i suoi capolavori istruendosi anche sulle ultime idee francesi in materia di pittura sulla teoria del colore quest'ultima molto influenzata dai recenti studi scientifici dei vari e instabili processi della percezione visiva questo background ha contribuito al graduale sviluppo dell'arte di Gauguin di un nuovo tipo di pittura sintetica così la chiamava anche lui una sorta di riflesso simbolico della realtà piuttosto che meramente documentario o speculare della realtà cercando il tipo di rapporto diretto col mondo naturale di cui fu testimone in varie comunità della Polinesia francese e in altre culture non occidentali Gauguin trattò la sua pittura come una benitazione filosofica sul significato ultimo dell'esistenza umana nonché sulla possibilità di realizzazione religiosa nel senso di una vita umana più vicina alla natura Gauguin fu uno dei precursori durante gli ultimi decenni del ventesimo secolo del movimento culturale che poi fu chiamato del primitivismo il termine denota il fascino per le culture meno sviluppate industrialmente e anche denota l'idea romantica secondo cui le persone non occidentali potrebbero essere più genuine da un punto di vista spirituale più vicine alle forze elementari del cosmo rispetto agli europei e americani artificiali e inurbati dopo aver praticamente abbandonato la moglie i suoi quattro figli e l'intero mondo artistico europeo il nome e l'opera di Gauguin divennero sinonimo come rimangono fino ad oggi dell'idea della massima libertà artistica della completa liberazione dell'individuo creativo dai propri ormeggi pesi culturali originari europei lui era un borghese era figlio l'abbiamo detto di un giornalista di un attivista femminista o figlio di una figlia di un attivista femminista quindi per sé la sua esperienza umana era già incanalata sui binari di un europeismo avanzato civilizzato borghese ebbene tutto il contrario di quello che lui alla fine scelse cioè scelse una strada si può dire opposta ma torniamo adesso a osservare le nostre opere anzi terminiamo la nostra diretta con l'analisi una dopo l'altra di queste opere che del resto abbiamo già visto in precedenza la natura morta con frutta e limoni per esempio composta mentre Gauguin lavorava ancora a tempo pieno come agente di cambio la pittura per lui era poco più che un hobby questa natura morta rivela la naturale abilità tecnica dell'artista con il pennello con la tela il soggetto è tipico degli impressionisti ed è un chiaro indicatore delle fonti di ispirazione le prime fonti di ispirazione di Gauguin furono Monet Pissarro Renoir la resa della tovaglia da parte di Gauguin in particolare mostra anche la forte influenza di Cézanne le cui nature morte utilizzavano effetti simili di contorni e di ombre e questo dicevamo un po' l'inizio della sua pittura poi piano piano lui troverà la sua maturità artistica e la sua strada sicuramente abbiamo già detto prima di tutto l'esperienza vissuta presso le comunità bretoni in Bretagna in Francia una regione della Francia già furono qualcosa di importante per lui lo vediamo in questo dipinto le quattro ragazze bretoni a differenza di altri che dipinsero soggetti rurali francesi nel 1880 a noi viene in mente per esempio Millet qualche anno prima anche Gauguin scelse di rappresentare quattro ragazze bretoni in un campo non con un intento documentario o realista gran parte del paesaggio visibile in quest'opera suggerisce le radici di Gauguin nell'impressionismo ecco se riuscite a intravedere lo sfondo probabilmente coglierete le pennellate e anche i colori sovrapporsi di colori tipicamente impressionista l'intento di catturare l'interazione visiva di un paesaggio con l'occhio lo vediamo in questo sfondo il rapporto con la retina dell'artista Magoguin spinse quella recente eredità verso nuovi scopi collocando le ragazze in una formazione simile a una danza non vi sembra quando vedete questo quadro di vedere qualcosa di cui abbiamo parlato recentemente quando abbiamo visto il quadro della danza di Matisse abbiamo infatti detto prima che indubbiamente Gauguin ha influenzato molto Iphov e Matisse in modo particolare Gauguin sottolinea il flusso massiccio degli abiti di queste quattro donne bretoni crea profili e sagome che suggeriscono bambole di carta queste e altre manipolazioni artistiche del soggetto iniziano a servire ad uno scopo simbolico suggerendo significati più profondi che si nascondono dietro le apparenze superficiali della realtà in quest'opera sintetica Gauguin fonde così elementi di accuratezza visiva con distorsioni di disegno e composizione che parlano dell'unione mistica delle ragazze con la natura infatti le donne collettivamente non da sole assumono la formazione di addirittura secondo alcuni di un boschetto di piante oppure di un vivace banco di pesci o di uno stormo di uccelli su uno sfondo invisibile e sovrastante volti figure vestiti e paesaggi assumono la stessa importanza cioè non è che tra virgolette le donne abbiano più importanza rispetto al paesaggio non è che il paesaggio sia uno sfondo le ragazze intrecciano le loro membra senza sforzo come se fossero sempre state insieme come se fossero un tutt'uno l'autoritratto i miserabili del 1888 poco prima della partenza di Gauguin per Arles alla fine del 1888 quindi quando era in ottimi rapporti con Van Gogh al punto che addirittura poi l'avrebbe raggiunto per nove settimane Gauguin e il pittore olandese Vincent Van Gogh si scambiarono esempi dei rispettivi lavori tra cui una serie di autoritratti questa composizione di Gauguin era inclusa in questi scambi con Van Gogh in quest'opera Gauguin somiglia al personaggio immaginario di Jean Valjean il protagonista l'eroe moralmente retto ma perennemente perseguitato socialmente di Le Miséable di Victor Hugo del 1862 con uno sguardo con uno sguardo solenne i capelli arruffati gli occhi stanchi Gauguin intende chiaramente tracciare un parallelo tra se stesso e Jean Valjean il cui piccolo crimine del passato Jean Valjean aveva rubato una pagnotta di pane lo marchierà per sempre come se fosse un criminale incallito indipendentemente dalle sue successive azioni virtuose Van Gogh in seguito ricordò di essere rimasto profondamente colpito dalle applicazioni di colore insolitamente audaci di Gauguin che abbia influenzato anche i gialli i famosi gialli di Van Gogh Gauguin con quadri come questo Visione dopo la predica dopo il sermone o la lotta di Giacobbe con l'angelo la visione dopo il sermone rappresenta un significativo allontanamento dai temi dell'impressionismo non c'è qui il paesaggio urbano o il paesaggio rurale i temi che erano piuttosto diffusi allora in Europa negli Stati Uniti durante gli ultimi due decenni del XIX secolo ma invece di scegliere di dipingere paesaggi pastorali o intrattenimenti urbani Gauguin dipinse una scena biblica rurale di donne in preghiera che immaginavano Giacobbe che lottava con un angelo cioè praticamente queste donne pie devote hanno appena sentito una predica nel corso di questa predica hanno sentito magari un sacerdote che ricordava l'episodio biblico della lotta fra Giacobbe e l'angelo e allora loro suggestionate a loro sembra di vedere questa scena di Giacobbe e dell'angelo davanti a sé davanti a loro la decisione di dipingere un soggetto religioso ricordava la tradizione della pittura non so medievale rinascimentale eccetera ma Gauguin rese il suo soggetto in uno stile decisamente moderno ecco per esempio la scelta dei colori l'influsso dicevamo delle stampe giapponesi i suoi esperimenti con la ceramica le tecniche artistiche delle vetrate colorate le opere dell'arte popolare e tradizionale l'enfatizzazione dei contorni decisi e le zone piatte di colore il famoso cloisonism partizionismo di cui abbiamo parlato prima il Cristo giallo del 1889 forte esempio anche questo di cloisonism stile caratterizzato da contorni scuri e aree di colore brillante separate appunto da un disegno di contorno audace è anche un esempio di simbolismo l'argomento è idealizzato o romanticizzato in qualche modo l'immagine predominante del dipinto il Cristo crocifisso è evidente ma Gauguin colloca la scena nel nord della Francia durante l'autunno e lo si può capire dal colore degli alberi il rosso per esempio degli alberi le donne in abiti del suo tempo in abiti ottocenteschi si riuniscono ai piedi della croce resta allo spettatore decidere se la visione è evocata nella mente o si manifesta fisicamente nel paesaggio contemporaneo una sorta di attualizzazione della crocifissione ma stiamo arrivando adesso al cuore dei famosi capolavori dipinti diciamo da Gauguin quando era a Tahiti in Polinesia eccetera è il caso per esempio di Manau Tupapau lo spirito dei morti veglia del 1892 una delle opere più famose di Gauguin Manau Tupapau è un eccellente esempio di come Gauguin amasse combinare l'ordinario con suggestioni dello straordinario in un'unica tela lasciando così aperta al dibattito ogni interpretazione del quadro come racconta in un diario d'epoca lo scenario reale è stato ispirato dal suo ritorno a casa una notte tarda e dal ritrovamento di sua moglie qui raffigurata però nuda nel caldo tropicale improvvisamente spaventata dall'accensione di un fiammifero nell'oscurità che avvolge tutto Gauguin cattura l'aspetto luminoso e irreale degli interni tropicali qui decorati con tessuti floreali ricordate anche il decorativismo è uno degli aspetti della pittura di Gauguin ecco ricordate che abbiamo parlato anche questo a proposito di Matisse ci sono materiali terrosi in questo quadro il tutto improvvisamente illuminato da una luce momentanea una luce fredda allo stesso tempo Gauguin introduce una rappresentazione spettrale di uno spirito che guarda apparentemente innocuo ai piedi del letto che è un riferimento diretto al folklore locale di queste popolazioni tribali che lui stava conoscendo che descrive come tali spiriti vagano nella notte e condividono per sempre il mondo dei vivi secondo queste credenze le credenze di queste tribù questo dipinto illustra bene anche come Gauguin rimase per sempre un figlio del XIX secolo pur fungendo da campanello d'allarme o faro per le generazioni più giovani del Novecento la sua pittura è comunque una pittura in cui le proporzioni ad esempio i corpi sono ancora rappresentati in un modo realistico appunto mi viene in mente l'aggettivo proporzionato la maggior parte del suo lavoro della sua opera è rimasta radicata nel mondo naturale che lo circonda un'eredità delle sue radici nell'impressionismo ma in alcuni casi Gauguin fa evidenti citazioni dalle sue fonti di ispirazione come in quest'opera che per molti continua a rappresentare un precedente del nudo quotidiano e non idealizzato dell'Olimpia di Edouard Manet del 1863 o meglio più che un precedente diciamo una sorta di interpretazione di emulazione ecco del famoso capolavoro di Edouard Manet dell'Olimpia eppure il lavoro di Gauguin suggerisce infine come quello dei suoi contemporanei più simbolisti come Odilon Redon e Gustave Moreau entrambi più strettamente allineati di Gauguin con la poesia simbolista francese dell'epoca che sotto il mondo delle apparenze solide come la roccia si trova un regno parallelo di mistero eterno spirituale di suggestione poetica e questa suggestione poetica è data dallo spirito che è presente in questo quadro lo spirito dei morti che veglia e dai colori il capolavoro da dove veniamo cosa siamo dove stiamo andando è della fine del secolo del 1897 ciascuna parte di questo dipinto corrisponde a una di quelle tre domande cioè da dove veniamo la prima cosa siamo dove stiamo andando ma Gauguin ha iscritto questo titolo nell'angolo in alto a sinistra lo vedete quella sorta di lembo quasi triangolare giallo che si intravede nell'angolo a sinistra troviamo il titolo del quadro ma la cosa importante da sottolineare è che queste tre frasi da dove veniamo cosa siamo e dove stiamo andando lì sono senza punti interrogativi ma torniamo adesso alle tre parti del dipinto questo dipinto lo si deve vedere da destra verso sinistra la prima fase della vita all'estrema destra è quella dell'infanzia delle donne con un bimbo forse neonato la seconda fase al centro è quella dell'età adulta nel pieno della forza e della vigoria l'ultima fase all'estrema a sinistra è quella dell'imminente fine della vita dove secondo l'artista una vecchia vicina alla morte appare riconciliata e rassegnata nei suoi pensieri a differenza delle precedenti opere di Gauguin questa grande composizione derivata in parte da una lunga tradizione di pittura come metafora delle varie fasi della vita o rappresentazione scenica della vita nelle sue varie fasi un tema che comunque era già presente diciamo nella cultura occidentale nella pittura anche occidentale questa composizione dicevamo è in parte religiosa ma non così tanto in modo tradizionale ma piuttosto in modo più personale in modo più misterioso oscuramente spirituale questo in linea con il ritiro di Gauguin cioè con la sua fuga dalla società fuga dall'Europa verso una cultura originaria la cultura di quella che allora era la Polinesia francese utilizzando un titolo così evocativo da dove veniamo cosa siamo dove stiamo andando allo stesso tempo comunque misterioso Gauguin allude alle tendenze sempre più filosofiche e mistiche dei suoi anni maturi Gauguin infatti fu legato dai suoi contemporanei al movimento pittorico simbolista quel movimento pittorico dicevamo prima di Redon di Moreau strettamente legato alla poesia francese degli anni 80 e 90 dell'ottocento ma raramente lui stesso attribuiva riferimenti apertamente filosofici letterari poetici alle sue tele in questa tela da dove andiamo cosa siamo e dove stiamo andando Gauguin guarda indietro a una vita trascorsa in gran parte lontano dalle origini sociali culturali e geografiche europee forse cerca un radicamento mentale spirituale in un mondo che ha consapevolmente scelto come suo una realtà alternativa a quella scontata e ovvia di un borghese parigino quale lui era una realtà ancestrale concludiamo la nostra diretta di stasera con il dipinto due donne tahitiane del 1899 conservato al Metropolitan Museum of Art di New York se avete visto le slide c'è spesso la collocazione diciamo di questi dipinti che sono praticamente tutti oli su tela e molti di essi si trovano negli Stati Uniti nei vari musei degli Stati Uniti mentre il soggiorno di Gauguin a Tahiti volgeva al termine lui si allontanò dal suo consueto stile simbolista per dipingere ritratti di donne tahitiane la cui bellezza forma e mancanza di ogni vergogna per la loro parziale nudità e seno scoperto decisamente diversa dalle convenzioni di molte donne europee borghesi dell'epoca lo affascinarono lo attrassero e lo ispirarono allo stesso tempo questo doppio ritratto è tipico delle ultime opere di Gauguin molte delle quali riflettono il profondo amore dell'artista per la natura la visione pittorica delle isole che lui stava visitando in quegli anni era in larga misura diciamo idealizzata romantizzata romantica simbolica il luogo e la sua gente erano esoticizzati e anche se vogliamo si poneva l'accento sull'aspetto della libertà sessuale esagerati da un pittore in cerca di una valida alternativa a quelle che percepiva come le carenze strutturali della società occidentale dell'epoca noi che abbiamo fatto insieme le dirette su Picasso ad esempio sappiamo quanto sia stata grande l'influenza del primitivismo di Gauguin del suo uso così spregiudicato del colore e dei contorni è vero quello che abbiamo detto prima che Gauguin è ancora decisamente un pittore dell'ottocento ma molti pittori del novecento da qui partirono per le loro avanguardie e sperimentazioni artistiche di Gauguin di Gauguin di Gauguin di Gauguin